Un disastro di pullman, abbiamo fatto 4 pullman da 54, più uno da 80, 300 persone, via, sì, vi apportiamo 300 persone, noi come club. Club Amici del Valese. Siamo molto emozionati, carichi, però fiduciosi, fiduciosi perché siamo in forma, speriamo una grande vittoria ragazzi, forza! Sì, sì, speriamo che arrivi, per i Maran Boys. Oh, apri la porta. No, no, il Bossello no. Siamo qua in attesa della partenza verso Marassi, siamo carichi. 13, 14, 15, ancora 5. Che spirito partite? Molto carico, molto molto carico. Va a salire in Serie A sul pullman. Grazie. Grazie.